Musica Per dare coraggio a tutte le donne, usciamo da casa, combattiamo, basta con gli uomini violenti, noi dobbiamo lottare insieme. Musica Un paese civile si misura anche da queste cose, non possiamo ritenerci civili finché avremo nei primi sei mesi di un anno 89 vittime donne uccise da uomini. Bisogna crescere uomini diversi, educarli in maniera diversa e il compito è anche nostro. 15.22 è il numero nazionale antiviolenza per rivolgersi ai centri antiviolenza, numero gratuito. Musica 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 Perché la piccola Daria possa crescere in un paese libero, in un mondo libero dalla violenza. Musica 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 Grazie.